Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Io conosco la mia, io sono la mia, saltate sulle mie sonne e io vi porterò da un padre, perché io sono la mia, e a Filippo che mi dice, buscaccio il padre e sono quelle sonne, e non c'è le persone, perché io e il padre sono una cosa sola, quindi se tu hai visto me, hai visto anche il padre, il padre e il figlio, e la sua partita ai bambini, in quanto i nostri bambini c'hanno due volte tutto, bambini come l'oro, San Francesco, non per questo, per voi 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 vedete, un po' l'epoca di recente, San Francesco e Santa, come si chiama il sacerdìano? Cognome qual'è? San Francesco, ci hanno un po' l'epoca di recente, Marco, Marco, Francesco e Jacinta sono quelle che stanno, hanno un suo ruolo, Marco e Francesco e Santa Maria sono i vostri potenti, quindi da oggi abbiamo già da pregare, Sia un po' l'epoca di crescere, siamo qualcuno anche per le persone, siamo gli fatti del tutto, noi hanno un po' l'epoca di crescere. Anche insieme. Francesco Marco, prego Labour pushes離. Santa Giacément, prego Labour pushes離. Santa Francesca, prego Labour pushes離. Santa Giac измен... Sì, non l'abbiamo solo. Grazie. 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 Francesco, por favor. Siamo di Francesco e Giacinta. Regate per noi. Viene il canale. Per favore adesso si andiamo. Canti Francesco e Giacinta. Grazie. 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 Grazie a tutti.